Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Uccisi da una caldaia, tragedia a Urbino questa mattina, morte due persone per il monossido di carbonio Ancora sconosciuto, il sito per l'ospedale unico a Urbino, i sindaci non votano Il regista Luca Pavetto questa sera in studio per parlarci di cinema La pagina dello sport come ogni lunedì dalla redazione sportiva Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, iniziamo dalla cronaca Andiamo a Urbino, due morti per il monossido di carbonio questa mattina Sono un belga di 47 anni ed una donna di 50 del posto, ritrovati appunto questa mattina Poco dopo le 11 nel loro letto in casa La tragedia è avvenuta in via delle stallacce in pieno centro storico Inizialmente si pensava fossero due studenti In quanto gli appartamenti solitamente erano occupati da studenti che frequentano le facoltà dell'Università Carlo Bo Dai primi accertamenti la morte della coppia avvenuta per le esalazioni di monossido di carbonio Probabilmente sprigionato da una caldaia Risalirebbero alla mezzanotte scorsa Una terza persona, una donna di 76 anni, è finita all'ospedale Dove si trova tuttora ricoverata per le stesse ragioni Sul posto, oltre ai vigili del fuoco Che sono intervenuti su segnalazione di un'amica dell'anziana signora Che non rispondeva al campanello Gli agenti del commissariato di Urbino Per le indagini sulle dinamiche dei due decessi E quella di questa mattina era una mattinata calda sul fronte della sanità locale Perché a Urbino si teneva una riunione dei sindaci dell'area vasta Per decidere la localizzazione dell'ospedale unico Ma si registra un nulla di fatto per tutta una serie di avvenimenti Proprio avvenuti durante questa assise Noi qui abbiamo questa sera nel telegiornale Ospite il sindaco di Fano, Massimo Seri Che era presente appunto alla riunione Ed è stato uno dei protagonisti di questa mattinata Allora sindaco, buonasera, benvenuto Buonasera, buonasera anche a tutti i telespettatori Allo stato attuale è un nulla di fatto quello che si registra Ma che cosa è avvenuto? Spiegando il perché, che cosa è successo in alcuni frangenti di questa riunione Sì, intanto vorrei dire che non è mai un nulla di fatto Perché ogni episodio, ogni appuntamento ha un significato E lo svolgimento ha un suo significato È stata una mattinata difficile, anche per chi vi parla Impegnativa, dove in qualche modo si sono manifestate posizioni forti e diverse Ma io penso che hanno partecipato con grande determinazione Perché rappresento questa città, rappresento questo territorio E non si possono subire le scelte Poi si può ragionare sulla complessità e sulle difficoltà Quindi questa mattina io ho fortemente riproposto il sito di Chiaruccia Che penso, ma non ho trovato un solo intervento che potesse obiettare sulle posizioni Sulle argomentazioni che ho portato su quel sito Quindi l'ho riportato, ripeto, con forza in quella riunione Come altri, a cominciare da Pesaro, hanno rivendicato la valenza del sito di Muraglia Lei si giocava molto in questo incontro questa mattina Era molto atteso da diverse forze politiche Su quella che sarebbe stata la sua linea La sua linea da tenere in questa mattina Beh, la mia è stata una linea coerente E con la giornata di oggi ho dimostrato una cosa Che io sto sul pezzo Quello che mi dispiace, lo voglio dire Che in momenti come questi ci vuole l'unità Se vogliamo bene una città, a prescindere dalle appartenenze Noi dobbiamo aiutare il sindaco E lo dico alla città, al di là dei giochi della politica Per accappararsi qualche voto in più Sapendo che la sanità è un tema sensibile E lo dico a un territorio Un territorio come quello del Cesano e del Metauro Che rappresenta i due terzi della popolazione I due terzi dei sindaci Quindi in questa mattina ho dimostrato che io sul pezzo ci sto Ho difeso questo territorio con le unghie Ho dimostrato di non essere isolato Perché comunque l'epilogo della giornata Seppur con argomentazioni diverse Ma c'è stata una buona parte di sindaci Non dico tutti quelli che sono usciti Ma molti che in qualche modo hanno appoggiato la mia posizione Ma soprattutto si è contrastato Non voglio dire un blitz che è una brutta parola Però una forzatura che si voleva fare Per orientare la scelta su muraglia Io questo onestamente l'ho contrastata Con determinazione Perché si volevano Come si era detto Se non la politica non riesce a trovare una sintesi Io ce l'ho messa tutta per trovare una sintesi Ma una sintesi non si può subire C'era la proposta dell'algoritmo Che il Presidente della Regione aveva portato Nel momento in cui si vanno a portare delle modifiche Che in qualche modo danno già un'indicazione Diventano, non voglio dire sleale Però c'è una forzatura Io ho chiesto in quel punto un rinvio Per discutere Perché anche io a quel punto avevo dei parametri da aggiungere Che avevano la loro logica e la loro valenza Ecco, dopo queste mie posizioni forti Devo dire una parte di sindaci Chi perché era contrario al sistema e al modello Chi perché non accoglieva questa forzatura Hanno abbandonato l'assemblea E non si è aperta poi di fatto la busta Anche se oggi, visti i comportamenti Forse qualcuno conosceva in modo più approfondito Anche i risultati della busta Perché quando si propongono dei parametri E si dicono anche le percentuali Quindi qualcosa mi fa pensare Che qualcuno, anch'io avevo la mia idea Su quelle che potrebbero essere le risultanze dell'algoritmo Quindi adesso che cosa avverrà Quali sono gli step successivi Visto che adesso ancora il sito non è stato individuato Intanto la palla ripassa alla Regione Perché non dimentichiamo Che qui si cerca molto di scaricare sui sindaci Poi noi diventiamo i parafulmini Ma la competenza specifica è della Regione Che si dovrà assumere anche delle responsabilità Delle indicazioni sono emerse Diverse, plurali Io penso adesso ci sarà anche un momento di riflessione Perché comunque l'assemblea di oggi È stata un'assemblea importante Sotto diversi punti di vista Dove ci sono stati dei messaggi forti Dove si è comunque evidenziato Che non c'è una posizione Che stravince su un'altra Anche se una forzatura c'è stata Ecco, io se oggi mi rivendi con merito È stato proprio quello di aver tenuto duro In alcuni momenti da solo Veramente da solo E riepriamo la discussione Anche su questo però voglio dire Bisogna essere responsabili Le discussioni non devono essere infinite C'è un momento anche delle assunzioni di responsabilità E delle scelte Ma è altrettanto vero E l'ho voluto sottolineare In assemblea Che non si può in sanità ragionare Per compartimenti stagni Cioè il ragionamento deve essere complessivo Di ospedale si deve parlarne Si deve parlare anche di servizi sul territorio E si fa un ragionamento complessivo Di tutta la provincia Per quello che riguarda il sito Voglio riaffermare la bontà Del sito di Chiarucci Ripeto, nessuno ha usato una parola Per contrastare le argomentazioni E su Muraglia Io ho una forte preoccupazione Che ho anche evidenziato questa mattina Io non ho mai visto Dove si va a fare una nuova infrastruttura Che la si va a fare in un centro abitato Oltre alle difficoltà Che ci sono anche morfologiche Ma un ospedale Di quasi 600 posti Di 580 posti Con tutti i servizi E i parcheggi Andarlo a fare in un centro abitato È una sciocchezza È anacronistico E poi non dobbiamo dimenticare Che queste scelte Riguarderanno il nostro futuro Per altri 100 anni Noi oggi parliamo di vecchie strutture Che sono nate circa 100 anni fa Ecco Queste sono tutte riflessioni Che anche il Presidente della Regione Deve fare Fra l'altro Il Presidente è espressione Di questo territorio Io l'ho già detto È l'ex sindaco di Pesaro Ma quando uno svolge il ruolo Deve superare Quegli impanni Io penso che il buonsenso politico Di chi ha quei ruoli E qui ci metto anche i consiglieri regionali Perché poi la Regione Non sono extraterrestri Sono anche espressione del nostro territorio Penso che tengano conto Devano tener conto anche Di quelle che sono state le considerazioni Le posizioni importanti Di molti sindaci Questa mattina Bene Grazie Sindaco Questo è il suo pensiero Riprenderemo sicuramente Queste argomentazioni Durante Primo Cittadino Che fra un po' Terremo qui nei nostri studi Grazie e buonasera Grazie E dopo quello che è avvenuto Durante l'Assemblea Oggi pomeriggio A Piagge si sono riuniti Otto sindaci del territorio Per ribadire la loro posizione Rispetto alle decisioni Della Regione In materia di ospedale unico È stata rifiutata La nostra proposta Di discutere Prima quale setto Sanitario ospedaliero Si vuole Per la nostra provincia E poi eventualmente Discutere Della localizzazione Di un nuovo ospedale Ma prima dovremo sapere Se i sindaci vogliono Un nuovo ospedale Che chiude tutti gli altri ospedali Noi abbiamo una proposta Concreta Salvare Pesaro Potenziale Pesaro Salvare l'ospedale di Fano Io dico Ripristinare i servizi Che erano nell'ospedale di Fano E tutta la rete Ospedaliera Che era nei presidi Ospedalieri dell'entroterra E li citiamo Nome e cognome Questi ospedali Queste comunità Iniziando da Urbino E da Pergola Proseguendo per Fossombrone Cagli E Sasso Corvaro Il progetto è diverso Costruire una ipotetica Nuova struttura ospedaliera Che chiuda Tutti gli altri ospedali Quando lei diceva Prima È tutto fermo Non è vero che è tutto fermo È tutto in movimento E il movimento si vede Nella chiusura degli ospedali Ad iniziare da quello di Fano La posizione di Cartoceto È sì Al ospedale Provinciale D'eccellenza Che possa ospitare Servizi Professionalità E tecnologie Ovviamente in grado Di ridurre drasticamente La mobilità passiva Cioè le decine di milioni di euro Che la regione Marche Spende Perché i cittadini Vanno a curarsi Fuori regione No Ad un ospedale unico Che cassi E sopprima Tutti gli attuali Ospedali esistenti Che invece devono Costituire la rete Ospedaliera Di filtro Verso questo nuovo Ospedale D'eccellenza Per quanto riguarda Il comune Di Mondolfo Noi Non siamo Non ci convince L'ospedale unico Siamo favorevoli Ad un presidio Sanitario Articolato Su Più sedi Quindi con L'itimizzazione Degli ospedali Dell'entroterra Quindi Pergola Urbino Fossombrone Cagli Sasso Corvare Naturalmente Pesaro E Fano Voglio Ribadire Che Non ci convince L'ospedale unico Così come è stato concepito Dalla regione Marche Nel piano sanitario Regionale 2012-2014 Però non diciamo Neanche no A prescindere A nuove strutture Di eccellenza Quindi benvengano Nuove strutture di eccellenza Pur che ci sia Un'analisi Corretta Costi e beneficie Che venga presentato Un progetto reale Uno studio di fattibilità Reale A tutti i sindaci In conferenza di Arevasta Come invece Non è stato fatto Fino adesso La posizione del comune Di Fossombrone È chiara da tempo Già in campagna elettorale Abbiamo ribadito Il nostro no Al piano sanitario regionale Che comprende La realizzazione Di questo ospedale unico Come ribadito Già in conferenza stampa Non siamo contrari A una costruzione nuova Di un ospedale Trafano-Pesero Oppure solo di Fano Solo di Pesero Ma che non sia Il presupposto Per smantellare totalmente La sanità locale Come invece Sta già accadendo Purtroppo Oggi Sono partiti I posti di cura intermedia Fossombrone Caglia, Sasso, Corvaro Quindi questo è il primo passo Verso un totale azzeramento Di servizi sanitari locali Noi siamo contrari a questo Ma in alternativa Proponiamo invece Un piano sanitario Appunto Che sia policentrico Che garantisca Gli stessi servizi Su tutto il territorio La posizione del comune di Piaggia In merito a questo argomento Che stiamo trattando Noi tra l'altro Come alcuni sindaci È appunto Legata al fatto Che Non è che siamo Diciamo No a prescindere L'ospedale unico Però Anche oggi Ci siamo resi conto Nella conferenza Dei sindaci Che veramente Il problema È più legato A dare garanzie A tutto il territorio Che parlare Di ospedale unico Quindi Diciamo no Al momento A patto Che si ridiscuta Il piano sanitario La posizione del comune Di San Lorenzo In campo È di rivedere Questo piano sanitario A livello regionale Con un sistema Che punti al policentrismo Spinto ovviamente La posizione Di oggi Che è venuta fuori Da conferenza Dei sindaci Di Arevasta Non poteva essere diversa Quando si chiede Ai sindaci Di decidere Dal tetto di una casa Senza sapere Come sono fatte Le fondamenta Non può esserci Che altro Esito Che è quello Che abbiamo visto oggi Io ringrazio Tutti i sindaci Che hanno avuto Il coraggio E la forza Soprattutto nei confronti I propri cittadini Di alzarsi Di non sottostare Ai diktat Che vengono dati Dalla regione Su un piano sanitario Non è stato condiviso E non è stato spiegato In nessun termine Né in particolare nessuno La posizione Del comune Di Montefelcino Per quanto riguarda Appunto La questione Della sanità locale È già stata Ampliamente illustrata In altri In altri momenti Ribadiamo comunque Il nostro no All'ospedale unico Proprio per evitare Che ci sia Una Diciamo che Una crisi Degli ospedali minori La salute dei cittadini Deve essere garantita Noi sindaci Dobbiamo essere Quelli che perlomeno Tentiamo di garantire loro Una lunga vita serena Gli ospedali minori Fungono da filtro Per gli ospedali maggiori E soprattutto Vogliamo che l'ospedale Veramente sia Un punto sereno Dove uno Purtroppo Anche se è ammalato Ma ci vada Diciamo Volentieri E diciamo Quelli con uno spirito sereno Proprio sapendo Che troverà Cure appropriate Allora La risposta Del comune Su questa situazione E per quanto riguarda La scelta Che non abbiamo Operato questa mattina Perché era Un obbligo Era E' stata vista Come un'imposizione Con poche informazioni Anzi direi Pochissime informazioni E questo Giustifica La scelta Che hanno fatto Una trentina di sindaci Di Fare E decidere Di proporre Di parlare Prima Della Organizzazione Sanitaria Regionale Nessuno di noi È preconcettualmente Contro L'ospedale Un'altra Un altro Ospedale Ma non può essere Là Ma il vincolo È soprattutto Quello che dovrebbe Togliere Ed eliminare L'assistenza Sanitaria Nell'entroterra Marchigiano È chiaro Che noi vogliamo Le stesse Assistenze Che sono previste Per quelle vicino a Peso Che la fanno E nel primo pomeriggio di oggi Due scooter Si sono scontrati Al centro Dell'incrocio Tra via Negusanti E via Palazzi Coinvolte Nell'incidente Una donna Di 44 anni Che procedeva In direzione Mare Su via Negusanti E un uomo Di 31 anni Che procedeva In direzione Sud Su via Palazzi Ancora In via di accertamento Le cause Dello scontro Avvenuto Al centro Della carreggiata Ma presumibilmente Dai primi accertamenti Uno dei due mezzi È passato Con il semaforo rosso Sul posto Per i rilievi del caso Una pattuglia Di vigili urbani Di Fano E di sanitari Del 118 Che hanno trasportato Entrambe le persone Al pronto soccorso Del Santa Croce In codice giallo Ed ora parliamo Di sport E di fondi Di finanziamenti Sì perché Per un progetto nazionale Il CONI Mette a disposizione Finanziamenti A fondo perduto Per riqualificare Strutture Sportive Degradate E periferiche Vediamo Arriveranno dal CONI 300 mila euro Per gli impianti Sportivi Fanesi Il progetto nazionale Del comitato Denominato Sport e periferie Tende a riqualificare Impianti sportivi A livello cittadino Decentrati Rispetto ad altri E quindi Dalla valenza sociale Ancora più importante Spesso per le periferie Cittadine Lo sport Rappresenta L'unica occasione Di aggregazione E di contrasto Alla delinquenza Minorile E allo spaccio Certo non è il caso Di Fano Ma nelle grandi Metropoli Questo della mancanza Di strutture O di strutture Vecchie E fattiscenti In zone Decentrate È un problema Reale Il governo Con questo intervento Diciamo Di cento milioni Sport e periferie Intende recuperare Delle aree degradate Adesso Non è che siamo Qui Nelle zone Nostre Con zone Molto degradate Però insomma Qualche problema C'è E quindi Si intende risolvere Dare un contributo A risolvere Questi problemi E far vivere meglio Sono la popolazione La città di Fano Ha presentato Ben sei progetti Di riqualificazione sportiva Tutti di grande Importanza strategica Per la città E ben due Sono stati Quelli accolti Dal CONI Il circuito ciclistico Marconi Ed il campo di calcio Denominato Dei militari I nostri impianti sportivi Hanno bisogno Di riqualificazione E questo era Un bando di febbraio Dedicato alle periferie Urbane E a impianti Che avevano Un taglio Nazionale E internazionale Ho fatto una scelta Di progetti Come ufficio sport Che da tempo Insomma Visito E conosco bene Le problematiche E il CONI Ci ha passato L'intervento Il circuito Marconi Di cui sono Molto soddisfatta Perché è un impianto Cittadino Che ne usufruiscono Almeno 2000 persone A settimana Quindi un intervento Che durerà Almeno 20-30 anni Una bella prospettiva Per il futuro E poi è stato scelto Un impianto Periferico Su Viale Piceno Che è il campo Denominato dei militari Che attualmente Non ospita Campionati di calcio Perché non è decoroso Quindi potrebbe essere L'opportunità Per rimettere in funzione Un campo Gli oltre 200.000 euro Destinati dal CONI Al circuito Marconi Saranno utilizzati Per il rifacimento Dei 2,4 km Di manto stradale E la sistemazione Del verde adiacente Per ora Ci si deve accontentare Anche se Il progetto Presentato Dall'assessorato Comprendeva Un box accoglienza Più decoroso Di quello che c'è E il rifacimento Della rete fognaria Per un ammontare Complessivo Di 375.000 euro Di spesa E per chi ha visto Nascere questa struttura È una grande gioia L'idea della pista Nasce perché Il ciclismo Dovrà svolgersi Col passare degli anni Solo Esclusivamente Sui circuiti chiusi Perché Il traffico È un pericolo Per il ciclista E cambiamo decisamente Argomento Sul fronte Del dissesto Idrogeologico Il Comune di Fano È stato uno Dei primi A stringere Un accordo Con il Consorzio Di Bonifica Per programmare E migliorare Gli interventi Sul territorio Presidente Invece Il Consorzio Di Bonifica Comune di Fano E Consorzio Di Bonifica Intensificano La loro interazione Per una maggior Pianificazione Degli interventi Sul fronte Del degrado Idrogeologico Del comparto Locale Il comprensorio Foglia Metauro E Cesano Ha diversi sorvegliati Speciali Come il rio Crinaccio Dove è stata eseguita Una prima tranche Di lavori E dove presto Ne sarà ultimata Un'altra E il fosso Delle camminate Dove un ponte Aspetta da tempo Di essere realizzato Il rio Crinaccio Riprenderanno brevi lavori Per concludere Quell'intervento Che è stato sospeso Per la sopravvenire Della stagione estiva E sicuramente Questa è una risposta In più Abbiamo anche previsto Altri piccoli interventi Sempre in ambito urbano Di pulizia Dei fossi In maniera tale Che i nostri cittadini Possono essere Più sicuri Il consorzio di bonifica In tutto questo Ha un ruolo centrale Perché fuori dalla parte urbana Interviene il consorzio di bonifica E prende sia La contribuzione Degli agricoltori Sia la contribuzione Dei cittadini Tramite le aziende Partecipate Quindi in questo caso L'ASET E quindi ha un ruolo Molto importante Con la quale noi Vorremmo rafforzare il rapporto Pianificare È la parola chiave Il consorzio Ha speso nel bienio 2014-2015 6 milioni E 700 mila euro E per il 2017 In questo settore Sono previsti 1 milione E 132 mila euro Di interventi Ma il consorzio Non dispone Di fondi pubblici Ma di proventi Derivanti dal gettito Quindi le scelte In materia di interventi Vengono operate Sulla base del rischio maggiore Ma i chilometri Da tenere sotto osservazione Sono davvero tanti Oltre 20 mila Ma il loro stato di salute Al momento attuale Qual è? Non diverso Da quello di tutto Il territorio regionale Perché Lo stato di abbandono Del reticolo idraulico Soprattutto quello Che noi definiamo minore Ma che spesso minore non è È Molto compromesso Devo dire che A mio giudizio Abbiamo voltato pagina Perché con 2000 interventi Realizzati Nel biennio Abbiamo avuto modo Di verificare Quanto sia Produttivo Il sistema Che abbiamo messo In campo È una piattaforma Di interlocuzione Diretta con i cittadini Che ovviamente Ha il peso È il carico Di dover rispondere A tutti Ma è una piattaforma Con i voti Noi diamo i voti A chi opera E chi ha segnalato Dai voti a noi Ed ora parliamo Di banche E di sistema Creditizio italiano Come tutti sapete Le BCC Stanno subendo Delle trasformazioni E degli accorpamenti E domani sera A Sedigaglia Dalle ore 17.30 In poi Presso la Rotonda Amare Siterà un convegno Sulla riforma Del credito cooperativo Dal titolo BCC Cambiare Per rimanere Se stesse Organizzato Dalla banca Di Suasa E prima Della relazione Del professor Stefano Zamagni Dell'Università Di Bologna Ci saranno I saluti Del presidente Della banca Di Suasa Maurizio Minucci E del vescovo Franco Manenti Bene Ed ora Come ogni lunedì Passiamo la parola Alla redazione Sportiva Per gli avvenimenti Del fine settimana In studio Con noi Come sempre Matteo Del Vecchio Buonasera Matteo Grazie Lino Tanti argomenti All'ordine del giorno Nella pagina sportiva Di oggi Calcio come sempre In primo piano Poi parleremo anche Di pallavolo Di rugby Di calcio a 5 Con una parentesi Anche al femminile Apriamo come sempre Dal campionato Di Lega Pro Di calcio E con la partita Che si è disputata Sabato sera Tra Alma Juventus Fano Ed Ancona Un derby Che era assolutamente Da vincere Per uscire Dei bassi fondi Della classifica E che invece Si è concluso Col punteggio Di 1 a 1 Una gara a viso aperto Quella del Mancini Che ha regalato Agli oltre 2.000 spettatori Sugli spalti Continui capovolgimenti Di fronte Ad andare in vantaggio Sono i padroni di casa Al 41esimo Con Masini Che sotto misura Riesce a capitalizzare Un traversone Dell'ottimo Borrelli Un vantaggio Tutto sommato Meritato Per i Granata Che non riescono Però a difenderlo Facendosi raggiungere Al 19esimo Della ripresa Da Andiaie Che approfitta Di un'indecisione difensiva Tra Torta Ferrani E il portiere Menegatti Succede poco o nulla Nei restanti 25 minuti Di gioco Dove i padroni di casa Specialmente con Gucci Provano a rimettere La freccia Ma senza fortuna Inevitabile il rammarico In casa Granata Per l'occasione persa Con i tre punti Infatti I ragazzi di Cusatis Avrebbero abbandonato La zona play out Mentre ora Si trovano bloccati In penultima posizione In compagnia del Mantua A comandare la classifica Un trio composto Da Bassano Venezia E San Benedettese Mentre nei piani bassi Sempre più allarmante La situazione del Forlì Ultimo a due punti E sconfitto Nell'ultimo turno Per 5 a 3 In casa col Parma Lo stesso Parma Che tra due settimane Sarà di scena Al Mancini Prima di affrontare I gialloblu però Il Fano se la dovrà vedere Sabato prossimo In trasferta Contro il Feral Pissalò Squadra che in classifica Viaggia a ridosso Delle grandi E che reduce Da 4 risultati Utili consecutivi Piccola parentesi Sul campionato regionale D'eccellenza Perché domenica Si è disputato Il derby tra Fossombrone e Pergolese 1 a 1 Il risultato finale Con i padroni di casa Avanti con Pagliari E raggiunti Ad una manciata Di minuti dalla fine Da Cinotti Nella stessa categoria Goleada dell'Urbania Che ne fa 5 Al fanalino di coda Folgore Ed esce dalla zona Playout Una zona dove invece Restano le stesse Fossombrone e Pergolese Rispettivamente Terzultima e penultima Dal calcio passiamo Al calcio a 5 Perché nel fine settimana Si è disputata La terza giornata Del campionato nazionale Di Serie B Un pareggio Che profuma di vittoria Quello dell'Alma Juventus Che impatta 3 a 3 Contro il PSG Potenza Piccena Squadra seriamente Candidata alla Serie A Pareggio anche Per il buldo Glucrezia Del tecnico fanese Elia Renzoni Che non riesce Ad andare oltre Il 2 a 2 Sul campo del Corinaldo Ma resta comunque Imbattuto nel girone E secondo in classifica Ferma ancora al palo Invece l'età beta Che si morde le mani Per l'8 a 4 Subito a Teramo Contro l'Atria I ragazzi Del presidente Serafini Infatti A 3 minuti E 7 secondi Dalla fine Conducevano Per 4 a 3 Restiamo in tema Di calcio a 5 Apriamo una parentesi Tutta al femminile Per parlare Del Flaminia Fano Una squadra Che da bella favola Sta diventando Sempre più realtà E che nel campionato Di Serie A È partita anche Quest'anno Alla grande Dopo la vittoria Al debutto Sulle fiorentine Della New Depot Le bianco-azzurre Del patron Giacomo Grandicelli Hanno espugnato Dominica Il campo Del Sassari Torres Mantenendo così La vetta Della classifica Per le ragazze Allenate dal tecnico Alessandro Imbriani Doppietta di Maddalena Fatica E gol di Claudia Giovannelli E Linda Letizzi E un primato In classifica La città di Fano Ce l'ha anche Grazie alla palla ovale Vale il primo posto Infatti la vittoria Ottenuta dai ragazzi Di Franco Tonnelli E il suo Pano Regbi Ieri sul campo Del Banca Marc Macerata Dove si disputava La terza giornata Del campionato di C1 Una vittoria Frutto di un match Praticamente perfetto Che ha visto Come assoluto protagonista Alessandro Gasparini Autore di 15 punti A completare il tabellino Per il 20 e 17 finale La meta di Mattias Canapini Chiudiamo la pagina Sportiva di questa sera Parlando di pallavolo Perché nel weekend Sono iniziati anche I campionati di serie C Maschili e femminili È di una vittoria E una sconfitta Il bilancio del primo turno Per le squadre locali Perdono in casa Le ragazze Della Pavlucrezia Che dopo oltre due ore Di gioco Concedono il fianco Al Senigallia 3 a 2 Per le ospiti Il punteggio finale Con le ragazze Di Giombini Che nel quinto decisivo set Pagano un vistoso Calo fisico È un netto 3 a 0 Invece quello Che i ragazzi Della Virtus Fano Bordolo Un dominio assoluto Quello della squadra Allenata da Roberto Pascucci E da Anna Vichi Che superano La Tecnobank Bottega Con i parziali Di 25-18 25-17 E 25-19 E con il volley Chiudiamo la pagina Sportiva di questa sera Vi ricordiamo Che come sempre Potete inviare Le vostre segnalazioni All'indirizzo mail Sport Chioccio La fano tv Punto it Per la redazione sportiva È tutto A voi tutti L'augurio di una buona serata Bene Grazie Matteo E dallo sport Passiamo al cinema È uno dei vincitori Di questa edizione 2016 Del Fan of Film Festival È argentino Ma vive a bellocchi Si chiama Lucas Pavetto Ed è stato intervistato Da Marco Ferri Proprio qui Negli studi Di Occhio alla Notizia Sentiamo Come ci parla Della sua opera E come è annunciato Nel sommario Adesso parliamo di cinema Parliamo di cinema Perché? Perché abbiamo Un ospite Gradito Lucas Pavetto Fanese Perché è qui in Italia Dal 1989 Anche se è originario Dell'Argentina Ed è un regista indipendente Ve lo presento subito Buonasera Lucas Buonasera Grazie Grazie per essere qui con noi Grazie a te Della possibilità Che mi hai dato Allora Con te volevo parlare Del tuo ultimo film Ed è un film Che ha un tema interessante L'alcolismo Però prima di farti delle domande Direi di vedere Un pezzo di questo film Un trailer di questo film Vediamo Tentativo numero 17 Ho fallito ancora Come da manuale Ho rispettato gli orari in pieno Non era ancora giorno Quando ho iniziato l'oppostamento Ma qualcosa Non ha funzionato Io so quello che ti sta succedendo È il mio lavoro Quando smetti di bere La mente può giocarti Dei brutti scherzi È pericoloso Io vedo cose Che Che non esistono Ma non so se riuscirò A rimanere pulito Per otto ore Tu vuoi aiutarmi Giusto? C'è soltanto una persona A questo mondo Che voglio vedere soffrire Ed è l'uomo Che abita dall'altra parte Della strada Ehi Puoi venire fuori un secondo Ti devo parlare Che cosa può averti fatto Quell'uomo Per meritarsi questo? Devo assolutamente Chiudere i conti Devo ambozzarlo Vuoi smettere di bere? Lo vuoi davvero? Sì Ma se pensi che questo Cambi le mie intenzioni Tu ti stai Completamente Sbagliato Sto male Allora Lucas Trailer dice tutto Straordinario Parlaci un attimo Di questo progetto Alcolist Alcolist è un film Indipendente Che nasce da un'idea Che avevo Che ho creato Insieme all'attore Protagonista Che si chiama Brett Roberts Che è un ragazzo Che ha avuto Dei problemi Di alcolismo Abbiamo creato Insieme questa storia Abbiamo Plasmato Questo progetto Indipendente Lo budget E lo abbiamo girato Tra New York E Roma Dici qualcosa di più Magari sul cast Che è interessante Abbiamo visto degli attori Insomma Bravi Professionisti Il cast è composto Da Brett Roberts Che è il protagonista Che ha alle spalle Decine di film Tra cui Per Harbour Addirittura E poi c'è Gabriella Reitz Che è un'attrice Americana Di origine francesi Poi abbiamo Bill Mosley Che è un'icona Diciamo Del cinema di genere Horror E John Robinson Che è una star Hollywoodiana Diciamo Ha fatto più di Trenta film Se non sbaglio E Tania Bambacci Che è un'attrice Italiana Emergente Molto brava Con la quale Il secondo film Che faccio Ecco Questo film Alcolista Ha vinto Il Fano Film Festival Come sei arrivato Al Fano Film Festival Ma io Essendo di Fano Seguo da tanto tempo Il Fano Film Festival Ho sempre pensato Di voler partecipare Ho aspettato Di avere il film giusto E niente L'ho presentato E con grande sorpresa Mi ha contattato Il direttore Fiorangelo Pucci E mi ha detto Che il film Era piaciuto molto E che addirittura E che addirittura Una giuria Lo voleva Scegliere Tra i vincitori E' stato Veramente un onore Per me Perché spesso Quando si fa Questo lavoro Si ricevono Solo critiche negative Oppure Nessun commento Invece Ricevere Una critica positiva Da parte di Fiorangelo Pucci Che è un esperto Di cinema E' stato Veramente molto Emozionante Tra l'altro Oltre al Fano Film Festival Chiaramente è un film Questo Che farà Altri festival Tra cui anche Nella cittadina Di Buffalo Dove tu hai girato Il film Gran parte del film Si abbiamo girato Gran parte del film Nello stato di New York Soprattutto a Buffalo E diciamo Il festival internazionale Di Buffalo Che è molto prestigioso E mi ha chiesto Proprio di proiettare il film E abbiamo fatto La prima mondiale Proprio a Buffalo Due settimane fa Ecco Per chi si intende Un po' di film Certamente Si sa che Realizzare Un prodotto del genere Ha dei costi Elevatissimi Tu però invece L'hai fatto Con un budget Come si dice Low cost Inteso come Quali sono le difficoltà Quando giri un film A low budget Praticamente sei Il nemico Di tutti Perché i soldi Sono pochi Quindi il primo nemico È il produttore Perché ti vuole tagliare Le scene Tu devi cercare Un modo di adattarle Il secondo nemico Può essere Il produttore esecutivo Perché non ti trova Le cose che hai chiesto Poi c'è Le maestranze Sottopagate Che devono fare Più ore Incavolati tutti Oppure il direttore A fotografia Che non ha il materiale Giusto per lavorare Per finire con gli attori Che magari sono lunatici E quel giorno Sono incavolati con te Quindi devi cercare Di essere Di polso da una parte Perché devi portare a casa Esattamente quello che hai in testa Come regista E d'altra parte Devi essere abbastanza buono Cercare di capire tutti E cercare di lavorare Con professionalità E lo stato d'animo giusto Ecco Lucas ha all'attivo Tre lungometraggi Questo è il terzo Ma mi pare che tu stia già lavorando Ad un altro film Ad un altro lungometraggio E ha sei cortometraggi Tra cui uno Trasmesso anche qualche anno fa Qui su Fano TV Come nascono questi film Da dove prendi spunto Prendo spunto da un'idea Di solito io amo esplorare I latti oscuri degli esseri umani Che sono quelli più interessanti Secondo me Quindi la follia Le dipendenze Tutto quello che è negativo Diciamo E che si rispecchia Nei fatti di cronaca Nella vita quotidiana Da un'idea Inizio piano piano Con un palazzo Costruirci sopra Mattone dopo mattone Il film Non è facile È veramente complesso Da realizzare Soprattutto se non Si hanno i mezzi giusti Quindi cerco di Circondarmi con persone Che sposano un po' la causa Magari E mettendoci Passione Piuttosto che Diciamo Avere uno stipendio Ecco per fare un film Allora Dove sarà possibile Vederlo? Qui a Fano? Martedì 18 ottobre Al cinema Malatesta Verso le 21 e 30 Ok Quindi Ingresso gratuito Ingresso gratuito Quindi insomma Motivi per andare a vedere? Ma perché Credo che questo sia Un tipo di cinema Diverso Un tipo di cinema Che va contro le regole Della commerciabilità Ed è un tipo di cinema Che spesso Non ha la possibilità Di essere visto In un paese Dove i fondi Spesso volentieri Vengono dati a Cine Panettoni O soppopera Bene Io mi fermo qui Perché questa edizione Di Occhio alla Notizia Dopo di noi Andrà in integrale La riunione Dei sindaci La conferenza stampa Dei sindaci Che si è tenuta Questo pomeriggio Di cui vi abbiamo Fatto vedere Una sintesi Durante il telegiornale Occhio alla Notizia Torna domani sera Alle 8.30 Puntualmente Buona serata E buon proseguimento Con i nostri programmi Grazie a tutti